Secondo me il tema dei bambini non deve costituire una bandiera ideologica, non deve soprattutto dividere. Il rispetto delle regole è fondamentale, non ci possono essere sindaci che si ritengono illuminati e che sulla base di questa loro caratteristica non rispettano regole che devono valere per tutti. Io non lo so che cosa ha fatto e che cosa il sindaco di Padova in questo caso ha registrato. Ci sono le autorità che ovviamente sono preposte al controllo, facciano i controlli.